della guerra che segue al coronavirus e lo soppianta qualcuno facendo la battuta ha detto che Putin ha anche risolto il problema del coronavirus perché è sparito in qualche modo dai radar purtroppo confermi il fatto che viviamo nell'emergenza come condizione normale di governo oramai del capitalismo neoliberale in crisi e che risponde in maniera incattivita alla sua crisi rilanciando estremisticamente e che credo stia predisponendo una transizione marcatamente tecno autoritaria tecnocratico autoritaria diciamo perché non si può proprio più permettere le forme della democrazia e dello stato di diritto non voglio dire la sostanza ma nemmeno le forme forse o comunque è necessario avere dei meccanismi magari amministrativi che tutta una riflessione su questo sul ritorno dello stato amministrativo dell'amministrazione in chiave emergenziale e e all'interno di un quadro è quello però dello stato neoliberale meccanismi tecnici amministrativi che consentano di dare per scontato che i diritti sono concessioni e che comunque il rubinetto si può aprire o chiudere in base all'arbitrio del potere del potente di turlo del governo parlamento è tagliato fuori chiaramente parlamento non conta più nulla e sulla base di cosa sulla base non di un dibattito pubblico una grande scelta politica costituente mettiamo no ma sulla base del fatto che c'è l'emergenza c'è la necessità e ora però la necessità fa legge come diceva santi romano quando si tratta di un terremoto dura poco e riguarda quel contesto specifico se la necessità fa legge sempre e diventa la legittimazione una legittimazione alternativa del potere politico potere politico e peraltro mi pare avere avere poco di politico nel senso rappresentativo democratico rappresentativo è oramai la politica della neutralizzazione della politica diciamo così questo è draghi e dobbiamo chiederci credo perché draghi cioè perché un anno fa così tanto si è insistito perché il salvatore l'epistocrate il sommo sacerdote della tecnica arrivasse in fondo non ce l'erano tutti questi motivi no e perché si è insistito a partire dall'alto dalla suprema istituzione di garanzia perché glione guardi neppure lontanamente si potesse immaginare di andare a votare e invece ci si consegnasse a uno che come dire arrivava da fuori e che per le sue virtù innate forse per i suoi legami strutturali con il potere occidentale o di atlantista direi però parliamoci più chiaramente perché poi anche gli stati uniti sono una realtà composita con il nucleo di progressismo lo uso fra molte virgolette neoliberale democratico cioè che è dentro i democratici è tutt'uno con i democratici americani e al quale sono saldati in una maniera fortissima apparati i così quelli che i francesi chiamano i gaffa cioè giganti del web che sono oramai poteri privati che esercitano l'arbitro totale anche nella sfera pubblica la finanza ovviamente e a naso l'impressione guardando basta guardare chi possiede chi anche big pharma e i media è un bel blocco di potere capitale che non è tutto perché poi ci sono c'è l'altra realtà c'è una ci sono pezzi di capitalismo molto più coinvolti nell'economia reale o che hanno altri interessi per non parlare delle piccole e medie imprese però certo qui stiamo parlando del fronte avanzato del capitalismo globalista e dell'ideologia del globalismo che ha anche mezzi a disposizione poderosi e che io la sensazione abbia scelto di determinare un'accelerata paurosa probabilmente per rispondere anche a una propria crisi è perché si notoriamente nell'autunno del diciannove stava per riscoppiare un nuovo caso le man brothers tutti gli indici indicavano che c'era un problema alle porche che la crisi finanziaria in realtà non è mai finita che le va a furia di andare avanti con bolle poi le bolle scoppiano una dietro l'altra ricordo che fratta fra altri vladimiro giacchè scrisse un paper che metteva in proprio luce questo e diceva anche attenzione perché non volendo affrontare veramente i problemi qui di solito funziona che c'è l'evento e l'evento è arrivato e ora io non non indulgo sia alessandro sopra che il professor campora lo sa lo sanno cioè ai complottismi anche perché penso che se uno vede complotti dappertutto poi non vede quelli veri cioè non vede quello che nel retroscena come dice campora spesso accade ecco e poi noi possiamo saperne fino a un certo punto quindi non è una questione però è una questione di dinamiche oggettive di dinamiche strutturali reali io penso che ci sia una scelta diciamo ci sia una scelta ci sia una tendenza poderosa a un accelerata perché c'erano stati populismi perché c'erano state le rifrattarietà perché c'era una crisi di come la chiamava quel signore di autorità diciamo così e diegemonia una perdita radicale di col senso perché oggettivamente non funziona poi la cosa surreale che questa che il finanza capitalismo come lo chiamava gallino non funziona però si può permettere di rilanciare guadagnando tempo e facendo pagare un prezzo e siamo arrivati ai prezzi grossi fino alla guerra agli eventi tragici quindi prima per rispondere alla domanda anche dal punto di vista della comunicazione diciamo così del dibattito pubblico a me pare che il biennio di gestione del coronavirus e come è stato anche raccontato e la guerra sia in totale continuità cioè demonizzazione società spaccata in due binarismo eh militarizzazione della società silenzio il silenziamento di ogni voce critica censura addirittura persino che mette avanti i fatti non si possono più dire se noi guardiamo quel comunicato della luis che censura il povero orzini in quel comunicato c'è scritto c'è una strana idea di lavoro scientifico e culturale cioè c'è scritto che per essere seri bisogna non bisogna disturbare il manovratore bisogna non bisogna mettere mai in discussione la narrazione mista cioè per essere seri bisogna dire quello che il potere vuol sentir dire questo significa anche che i fatti non vanno detti ecco per esempio sia campora che 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 somma prima hanno raccontato hanno ricordato dei fatti quei fatti non si possono dire qual è la differenza con un sistema orwelliano diciamo così scarza ora per carità so bene che già è successo nella storia so bene che in periodi di guerra c'è la logica della della appunto della militarizzazione quindi se non se poni qualche domanda sei un sabotatore ma a parte che è mostruosa ma in ogni caso non ci vedo un vendete c'è la come democrazia perché poi questa cosa viene prospettata come una come necessaria prima col coronavirus perché l'unico modo di gestirlo era quello non mi pare sia stato un successo però bisognava dire che era l'unico modo di gestirlo e mi pare che ci fossero anche poterosi interessi dietro che sono stati serviti e coltivati si sono evitate altre strade che altrove hanno portato a risultati positivi e si è alimentata una reazione spregevole che ha creato il capo espiatorio e ha demonizzato è stato sdoganato il principio di discriminazione strutturalmente quindi la verità è che la costituzione bisogna dirlo anche tanti custodi della costituzione a parole l'hanno semplicemente rimossa e sono gentile nel dir così eh per due anni noi abbiamo rimosso principi costituzionali di civiltà fondamentali se fai questo tutto è possibile dopo infatti è possibile un clima da guerra col col cervello all'ammasso naturalmente questo è nel mainstream e nella relazione pubblica cioè pubblicitaria oramai perché definirla della comunicazione dell'informazione è generoso a livello di massa popolare forse c'è qualche consapevolezza in più seppur non iper elaborata ma che c'è qualcosa che non torna e il problema che hanno c'è un pezzo di 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 popolo di ceti popolari di 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 masse una volta si usava il termine masse però non si può più usare che forse non sono del tutto disposte a andare dietro a questa narrazione e questa della guerra ora è anche quella precedente così come a quella che avverrà sulla sulla risparmio energetico sulla necessità dei sacrifici hanno già cominciato su magari poi arriverà la nuovamente la strategia dell'attenzione sullo spread cioè c'è una come si fa a non vedere che c'è una continuità di logiche come si fa a spezzettare le singole parti c'è una logica di fondo che unisce la crisi modo in cui si è risposto alla alla crisi finanziaria dal modo in cui si è risposto alla crisi del coronavirus ora il modo in cui si risponde alla crisi ucraina di tutto questo fa parte oltre che tanto in cinismo e interessi anche un problema culturale e lo dico a camphora credo lui sia d'accordo cioè impressiona la totale destoricizzazione la la perdita totale di di diciamo di consapevolezza della complessità della politica insomma viviamo un momento drammatico ma francamente io non vedo la tragedia cioè sembra una fiction è ridicola per certi aspetti il modo in cui viene l'approccio che c'è produce un effetto diciamo distorcente un effetto spiazzante perché non è serio se viviamo un momento drammatico lo viene detto continuamente ma io non vedo serietà mi colpisce enormemente che non si riesca a elaborare una politica un'ipotesi di politica dico anche per l'italia che è un paese che ha i suoi limiti ovviamente di forza però potrebbe forse contare un po di più in passato un pochino contato di più un minimo di di prospettiva diplomatica di mediazione di ricerca di un modo svivente l'unica cosa da fare è cercare un modo svivente visto che la situazione appunto che il campo la ci ha raccontato è quella e quindi non si può semplificare con la fiction di zelensky perché zelensky è uno che ha un prodotto di una fiction lo sappiamo no c'è uno ha fatto per cui è stata costruita una fiction il bravo presidente poi è diventato presidente è vero e chi l'ha fatta quella fiction è un attore che è diventato presidente e io mi farei qualche domanda quello che mi colpisce è appunto il fatto che un pensiero così povero e una politica così povera sono votate all'estremismo sono votate alla anche al periodo a scelte pericolose perché non c'è un minimo di capacità di di freno e di autofreno cioè per questo è inquietante tutto questo si muovono interessi poderosi e io la domanda me la lascio dopo che ho è ma dove si vuole arrivare perché siccome tutta questa propaganda questa narrazione è funzionale a qualcosa e per me è chiaro la guerra è evoluta dalla nato e dagli stati uniti e in particolar modo da chi sta al comando ora biden è semplicemente una maschera di chi comanda ora il punto è ma fino a dove vogliono spingersi per quello che riguarda l'italia come dire vogliamo proprio essere solo un prototto un protettorato perché oggi l'italia è un protettorato in mano a un tecnocrate che appartiene che non è italiano che non ha nulla a che fare con la storia d'italia lo so che dico cose dure ma e che appartiene a un'elite globalista e dove conta lo tengono fuori dalle riunioni fondamentali perché ora è il presidente del consiglio del nostro paese ma diciamo lui lì ha un peso veramente ed è stato scelto ad occhio il che ci dice anche che il nostro paese come si è già visto negli ultimi due anni è un paese irrilevante nella crisi europea e dell'eurozona soprattutto e molto esposto dove si possono fare dei belli esperimenti perché è molto fragile molto esposto forte cioè forte rilevante ed esposto e soprattutto è un paese in cui oramai si può chiedere a chi svolge un ruolo pubblico di comportarsi da servo senza problema abbiamo una banda di briganti al potere e anche servile non l'abbiamo mai avuta così perché i politici ministri degli esteri di quando c'era la repubblica ora mai bisogna dire così no la cosiddetta prima repubblica non ha senso quando c'era una repubblica almeno cercavano un modo sui vendi ecco cercavano di promuovere una politica estera un po consensata un po consapevole se non altro dei rischi che si corrono provocazioni quelle del intervento del nostro prete rossi è un ragionamento molto pacato a mio modo di vedere e che metteva in evidenza problemi seri dei quali nonostante la macchina pseudo informativa siamo tutti consapevoli anche coloro che tale macchina dirigono per il fatto stesso che esercitano la censura e dimostrano di pensare esattamente quello che noi stiamo dicendo altrimenti non eserciterebbero la censura e anche contro personaggi che vengono dal loro mondo a me ha fatto una certa impressione notare e temo che sia una forma di censura la assenza del commento domenicale di sergio romano sul corriere della sera che ormai da tantissimo tempo era lì o meglio ho notato un fenomeno di progressivo ridimensionamento di lui romano è stato in anni 70 80 profondamente atlantico non ci dimentichiamo l'episodio direi abbastanza traumatico quando egli era ambasciatore a mosca della repubblica italiana e demita presidente del consiglio va a mosca con una delegazione essenzialmente economica per firmare una serie di accordi contratti ne faceva parte anche neri onesi che allora era il presidente della bnl non è una banca importantissima romano protestava contro questo avvicinamento dell'italia all'unione sovietica e non si presenta al aeroporto cosa gravissima perché l'ambasciatore deve essere presente se arriva il presidente del consiglio del suo paese va bene e infatti fu subito allontanato da quella carica invitato a dimettersi e perché un po la tecnica poi è quella non che uno viene cacciato viene invitato a dimettersi come è successo al predecessore del generale figliuolo quel tale adesso mi ricordo il suo nome eh che aveva il compito no di coordinare i vari interventi per il coronavirus draghi appena diventato presidente del consiglio lo ha convocato e gli ha ordinato di dimettersi cioè non ha detto io ti caccio cosa arcuri sì appunto è un nome può sfuggire poi noi studiando storia incrociamo talmente tanti nomi che alcuni poi ce li perdiamo poi le ricoperiamo non era così rilevante ora eh Romano costretto ad andarsene ma in fondo era consapevole della gravità della sua scelta e però poi ha continuato nel corso del tempo sia come collaboratore di panorama poi collaborato una pagina fissa sul settimanale dell'epoca eh a manifestare la sua fede atlantica dopo il 91 quando cessa di esistere l'unione sovietica e l'unione sovietica perde la guerra fredda no? La guerra fredda è durata molto più di tante guerre calde l'Urs l'ha persa e i vincitori hanno proclamato questo successo ma Romano un uomo acuto ha cominciato a scrivere in nella pagina che quotidianamente occupava nel Corriere della Sera che la Nato a questo punto è superflua cioè non c'è il nemico l'alleanza è difensiva ergo non ha ragion d'essere e poneva poi continuamente la questione dell'incompatibilità tra una Unione europea che si prospettava come realtà politica non soltanto come moneta unica e la Nato come vero tutore io ricordo eh suoi interventi molteplici su questo terreno che davano un po' noia perché gli atlantici poi non perdonano eh forse vi ricordate l'uccisione di Salvo Lima improvvisa a Palermo eh Andreotti uomo acutissimo che era il patron di di Salvo Lima eh disse ma forse gli americani mi mi hanno voluto mandare un segnale disse Andreotti e il segnale loro lo danno quando qualche d'uno che era considerato schieratissimo fedelissimo comincia a eccepire no? Andreotti al tempo della crisi di Sigonella eh si schierò in una maniera che non piacque ai sacerdoti dell'atlantismo ora da ultimo eh Sergio Romano è stato detronizzato gli hanno tolto la pagina quotidiana l'hanno data ad un altro che insomma molto meno diciamo significativo e allora è stato ridotto ad una nota una rubrichetta domenicale eh spesso relegata in posti invisibili nella quale rubrichetta lui continuava a dire per esempio che eh l'Europa se vuole avere un senso deve assolutamente svincolarsi dal patto che la condiziona perché questo patto è fatto essenzialmente in funzione di due gangli il segretario generale della Nato che viene nominato su gradimento degli Stati Uniti d'America il comandante militare della Nato il capo di stato maggiore della Nato che deve essere per forza un generale americano allora in queste condizioni l'Unione Europea ingabbiata dentro la Nato è chiaro che è un Galliver eh legato da mille legacci e reso immobile no privo un gigante incatenato per l'appunto come mi è capitato di definire l'Unione Europea allora con la guerra lui eh si è trovato in una certa difficoltà ha scritto un pezzettino eh in cui un po' insomma cercando di dire non dire ha istituito un raffronto tra l'invasione dell'Ucraina e l'invasione dell'Etiopia nel 35 però poi contemporaneamente intervistato dal medesimo giornaletto locale di cui abbiamo parlato all'inizio eh ha detto l'esatto contrario cioè ha detto ma è inutile le responsabilità della guerra ricadono eh su Biden soprattutto che ha voluto accelerare i tempi fino ad arrivare a un punto di rottura va bene dopodiché domenica scorsa non c'è più non lo so se sta poco bene non non saprei mi sembra un uomo di grande eh tenace e serietà è un altro segnale questo evidentemente ma nello stesso quotidiano c'è l'abitudine di mettere un paio di eh articoli di fondo no curiosa l'abitudine di solito articoli di fondo è uno che esprime più o meno alla linea del giornale ci ce ne sono due quindi non so per esempio arriva pane bianco e ci spiega che ormai c'è il nemico interno bisogna fare il catalogo dei nemici interni che siamo forse noi altri non lo so non lo so grazie a tutti grazie a tutti